Oggi prepariamo insieme la puccia fogliette con fregatine di pollo. Ho già la puccia fogliette pronta grazie all'azienda Puglia Sapori ed è buonissima. Partiamo agli migliorienti. 500 g di fregatine di pollo, 70 g di borro, 4 fettine di pancetta fumicata di 50 g in una, 4 cucce, cale e pepe. Facciamo cuocere le fettine di pancetta sulla griglia. No one else I like to see, my heart beats for you, girl you know it's true, gotta let me in, to share all my love, please tell me pain. Facciamo soffredderci 50 g di burro in una padella, uniamoci i fegatelli, aggiungiamo sale e pepe e facciamo cuocere a calore vivo per 5 minuti. Facciamo started. Campanella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti